Io batto sempre tutti! Sono un combattente! Guardate il mio ciondolo! Me l'ha dato la mia ex per averla protetta da ben 50 banditi! Tu sei senza ragazza, giusto? Ehi, Julie, smettila subito! In realtà l'ho visto prima io! Giorgio, ma tu hai Patrick! Ragazze, in realtà siamo tutte fidanzate! Sì, certo! Io sono single! Non sono come mio fratello che corre dietro a una cheerleader! Quando ti ho visto, capita subito che eri meglio di Simone! I tuoi muscoli sono più grandi! E sei più alto, più coraggioso, più sicuro di te! Esatto, sono proprio così! Nel mio quartiere tutte gridano dal balcone! Mike, vieni fuori, aiutaci! E tu esci con loro? No, non ci esco! Non sono il mio tipo! Mastichi la gomma in modo sexy! Il mio art non la mastica così! Ti sembra un criterio questo? Tu siate timide, prendete! E per me, per me, per me! Io sono Mary! Mary! Patrick, non uscire! Io faccio quello che voglio! E muoviti! Ai! Dai, Art, cammina! Muoviti! Dimmi qualcos'altro di insolito! Sì, sì, dici! Mastico la gomma proprio come te! Che sta succedendo? Che sta succedendo qui? Niente di che! Simi è il mio esatto opposto! Io sono figo e lui no! Wow! Julie, perché tu sei qui con la bocca aperta? Giorgia, e tu che fai? La leonessa! Mary, e tu per fare due parole? E allora che c'è di male se lo ascoltiamo? Per caso sono i vostri tipi? Aspettate! Che diavolo sta succedendo qui? E chi diavolo sei tu? Sì, e che cavolo ci fai nella nostra scuola? E perché corteggi le nostre tipe? Attenti! Che vi incollo tutti insieme! Insomma, che volete? Ascoltate ragazzi, meglio non scherzare con lui! Giorgia, andiamo! La lezione è finita! Aspetta, Patrick! Non ho ancora finito con Michael! Andiamo, ho detto! Wow, che tipo figo! Porto rispetto! Sì, Patrick fa sempre così! Julie, vuoi che ti compri una buona cioccolata dopo scuola? Sì, la voglio, la voglio! Allora andiamo, forza! Ok, andiamo! Se ti becco ancora che parli con lui, rimarrai scapola, hai capito? Ok! Andiamo! Ciao, Mike! A presto! Non lo vedrai tanto presto! Finalmente hanno portato via le loro bellezze! Ragazze, vi devo dire una cosa! Cosa dici? Sì, dici cosa! Beh, ieri io e Diego siamo usciti insieme! E? Beh, lui era davvero carino! E? Ci siamo baciati, ma non mi è piaciuto! Nat, non preoccuparti! Anche Simone non sapeva baciare, ragazze! Bruno non sa ancora baciare, allora dovrei lasciarlo! Nat, non preoccuparti! Ragazze, vi invidio così tanto! Se avessi un ragazzo, gli insegnerei a baciare in due minuti! Lo troverai, Laila! Hai sentito? Simone non sapeva baciare e gli ha insegnato Diana! Perché io l'ho insegnato a Diana? Tu? No! Così mi avevi detto! Io ho baciato Diana solo sulla guancia! Dai, ascoltiamo che dicono! Sì, ascoltiamo! Diana, a proposito, Simone è tornato a scuola! Beh, ragazze, Simone ha fatto pace con il suo allenatore, il che significa che la prossima settimana tornerà qui a scuola! Anche il nostro rapporto è di nuovo perfetto! Ah, Diana, che bella notizia! A proposito, suo fratello è sempre qui intorno! Chi? Mike? E che ci fa qui? Non lo so! Forse vuole studiare qui anche lui! Beh, ragazze, perché no? Lui mi piace, molto sicuro di sé! Se studiasse qui non mi dispiacerebbe affatto! Oh, Laila! Se tu uscissi con Mike, io e te saremmo fidanzate con due gemelli! No, Diana, questa non è affatto una buona idea! Giada, perché sei gelosa? Tanto tu hai Bruno, no? Sì, ho Bruno, ma anche Simone è carino! Giada, dici sul serio? Diana, calma, ti sto scherzando! Che stanno dicendo? Il mio casco è spesso! Mi sembra che parlino di Simone e del suo fratello gemello! Ancora con questi gemelli! Ehi, cos'è questo? E questo dai, fanno il nuovo! Ragazze, sta arrivando Mike! Mike! Ecco il mio ciao alle ragazze più belle della scuola! Ciao, Mike! Hai parlato con Simone? Come sta? Diana, perché non lo chiami e lo scopri tu stessa? Mike, rimarrai in questa scuola? Giada, guarda come si comporta la nostra Laila! Aha, l'ho vista! Ragazze, è ufficiale! Farò parte di questa scuola! Fico! Diana, non mi sembra tanto fico! Prima Bruno e Simone erano i più cool della scuola e adesso arriva questo qui! Non lo so, Giada! Se Simone e Mike potessero studiare insieme sarebbe carino! Sono fratelli! Ne sono molto contenta! Vuoi che ti faccia fare un giro della scuola? È molto bella! Ho già girato per un'ora nella scuola! Molto bella! Ragazze, secondo me non lo accetteranno! Beh, speriamo proprio di no! Nat, perché dici questo? Beh, non mi sembra adatto per questa scuola! È presuntuoso! Beh, non hai visto di sicuro la mensa! Vuoi che te la mostri? Possiamo prendere la cioccolata con il marshmallow! Ragazze, la nostra Laila non sta perdendo tempo! Vuole assolutamente conquistare Mike! Preferisco andare dopo alla mensa! A voi piace essere origliate nelle discussioni? Che significa? Che sotto le scale ci sono due roditori che continuano ad origliare! Cosa? Dima, ma che ci fai qui, eh? Sì, perché ti nascorrevo? Sono seduti! Forza, veloci! Uscite da lì, avanti! Sì, fuori! Allora, che cosa stavate facendo? Ci stavamo nascondendo! Dì, ma Kev, non avete ancora imparato la lezione? Prima ci spiate nello spogliatoio, poi nel bagno e ora qui! Ma che vi prende? Diana non lo fa solo qui! Si siede sotto la mia stanza e sente tutte le mie conversazioni! Ma perché gridate? Continuate a parlare con il vostro Mike! Gli siete già mancate! Kev, per favore, smettila! Sì, ne abbiamo davvero abbastanza di voi! Sì, è vero, Kev e Dima, se voi non poste qui non ci sarebbero problemi! Le cheerleaders hanno gli affari loro! Complimenti! Mike, la cioccolata? Lasciateci in pace! Cosa hai detto? Kev! Andiamo, Kev, andiamocene! E smettetela di seguirci, d'accordo? E anche di origliare! Siete proprio potenti! Le avete distrutti! E ancora non hai visto niente! Ok, andiamo in mensa! È ora di mangiare una buona cioccolata! Oh, la campanella significa che è il momento di allenarci! La prossima volta ti faremo fare un giro della mensa! Diana, oggi puoi allenarti senza di me! Laila, assolutamente no! Dobbiamo allenarci tutte insieme, Ricord! Laila, andiamo! A dopo! Cheerleaders! La campana suona e loro scappano! Che sottospecie di cenerentole! Cioccolata deliziosa è scuola cool! Mike, sei proprio nel posto giusto per te! Hai fatto bene a tornare in questa scuola! Honestamente l'ho fatto per Diana! Simo, guarda! Che stai facendo qui? Che c'è che non va? Io studierò in questa scuola! E by the way, ho già incontrato le cheerleader! Non studierai qui! Tu non ci metterai nemmeno piede! Vado dal preside! Calmati, Simo! E tu, Mike, invece? Ti fai crescere i pappetti, eh? Ma stai zitto! Ho bevuto la cioccolata e sai? E' proprio per lei che rimarrò qui! E sentiamo, che cosa studierai in questa scuola? Il nulla cosmico? Questo non è il tuo posto! Non sta a voi decidere! E poi ho già consegnato i documenti! Ah, è così! Già consegnati, eh? Beh, dovrò dire al preside perché sei stato cacciato da dieci scuole! Esatto! Facciamogli conoscere la tua reputazione! Hai quindici secondi esatti per andare a riprenderli! Va bene, va bene! Ne parleremo a casa! Piuttosto ho incontrato una certa Diana! Ti dispiacerebbe se uscissi un po' con lei? Wow, Simo, ho sentito bene! Vieni qui che ti torturo per bene! Ok, me ne vado! Ma tornerò! Vai, vattene via! O lascia la presa e te la vedrai con lui! Ti ho avvertito! Ci vedremo presto! Sì, prova a farlo! Andiamo! Diana mi è davvero mancata! E lei piange per te! Laila, hai davvero una cotta per Mike? Sì, in realtà mi piace molto! Non vi ho mai detto che all'inizio mi piaceva Simone! Poi ho scoperto che aveva una relazione con Diana! Così ho lasciato stare! Laila, non lo sapevo che ti piaceva Simone! Sì, Laila, noi non lo sapevamo! Laila, spero che non ti piaccia anche il mio Bruno! No, Giada, non mi piace il tuo Bruno! Non è il mio tipo! Ragazze, per fortuna che Simone ha un fratello gemello qui! Almeno Laila non me lo ruberà! Diana, perché dici una cosa così cattiva? Basta, non mi interessa! Iniziamo l'allenamento! Uno! Due! Ciao a tutti, cheerleaders! Diana, viene ad abbracciare il tuo Simone! Simone! È tornato Simone! Simone! Oh, Nat, non mi interessa! Io avrò Mike! Oh, Laila, scordatelo se non l'hai notato! Cioè, guardate tutte quante! Oh, Nat, come sei stupida! Ha guardato solo a me, d'accordo? Simone, mi sei mancato così tanto! Anche a me! A proposito, perché non mi hai detto che hai un fratello gemello che si chiama Mike? E va in giro pensando di essere il più figo di tutti? È una storia lunga, te la racconto dopo! Simone! Ma hai capelli rosa anche tu! Sei molto carino! Sì, sei ancora più bello! Grazie, tesoro! Bruno, tu lo sapevi che Simone ha un fratello? Sì, certo! E perché non me l'hai mai detto? Perché l'ho saputo da poco! Beh, lui è venuto qui e pensa di essere il più figo di tutti! E Laila si è innamorata di lui! Puoi immaginare che se lui rimarrà in questa scuola non sarà molto divertente? Giada, non preoccuparti! L'abbiamo già cacciato via io e Simone! Davvero sì? Laila, il tuo Mike non rimarrà qui in questa scuola! Bruno e Simone lo hanno cacciato! Simone, è vero? Sì! Laila, hai sentito? Oh, che mi importa? Simone, mi dai il numero di Mike? Hai visto Laila? Si è innamorata di lui! Laila, non ti consiglio di contattarlo! Perché non dovrei? Laila, è così e basta! Torniamo ad allenarci avanti! Non ve lo racconterò più tardi! È una storia lunga! Laila, non preoccuparti! Ti farò avere il numero di Mike da Simone! Davvero? Grazie! Figurati! Uno! Due! Tre! Quattro! Cinque! Sì! Otto! Nove! Dieci! Kev, la devi smettere di metter... Oh, mio Dio! Kev, la devi smettere di... Sì, Kev, smett... Sì, Kev! Sì